Buonasera, 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 allora Allora, ovviamente io vi ho chiamato per farlo venire qua per fare i miei testi Una cosa cinque spizzi Sì, è per vedere l'intervianza delle persone di ragazzino E dove erano questa roba? Allora, non ti aiuta a mettere l'assoluto Iniziamo con quelle domande Ho 15 anni Sono maschio Non avevo nemmeno iniziato, mi scusi Sì, siamo vecchi Che problema Ok, iniziamo con le domande, basta con queste stronzate Ok Le faccio una domanda intelligente La quale lei mi dovrà rispondere entro tre secondi È pronto per questa domanda? Ah Sente però Infine sta nel bombifero Se io lo assumo per un lavoro E le do un euro il primo giorno Due euro il secondo giorno Lo so Allora praticamente il gelato viene creato dal latte insieme ad altre sostanze Quali sono queste sostanze? Quali sono queste sostanze? La Sì è un Allora aspetta è buono Ultima domanda Allora Poi dopo non le chiederò più nulla Allora Questa è una domanda facilissima È a Trabocchetto però eh Eh, certo, non ci vuole chissà chi per capire. Allora, pronto? Di quale colore era il cavallo bianco di Napoleone? È una vera sciocca il suono. Di che colore era? Il cavallo bianco. Ah, era bianco. Ah no, ho sbagliato. Come è la pallone? Le posso dire una cosa? Lei è stupido, lei è veramente uno stupido. Se c'è una persona stupida al mondo, quella è lei. Basta, mi rifiuto, me ne vado. Mi riempisco. Ragione. Io riuscirò dove Diego ha fallito. Aaaaaaa. No, willen. Ma, ma, ma. Ma, ma, ma. Ma, ma. Signor Carlo, ho stato dato sei miei squilibri aumentati queste ultime settimane. Sì. 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 Fii. è not over